Avvocato Graziani, che ruolo giocano le tematiche legate alla sostenibilità nelle attività dei family office? Inizialmente verrebbe da pensare che si tratta un po' di una moda del momento, questa è la prima reazione che molti hanno, in realtà è un ambito fortemente soggetto ad un aumento di norme, una stratificazione di norme che tendono a contrastare il cosiddetto fenomeno del greenwashing, cioè proprio che qualcuno si possa mettere inappropriatamente un bollino di sostenibilità quando non lo merita. Calato più nel contesto dei family office, questo è un ambito in cui alcuni soggetti, i multifamily office che sono ad esempio strutturati come intermediari finanziari, pensiamo ad alcuni multifamily office che sono delle sim, loro sono già soggetti a degli obblighi precisi di disclosure che nascono da questa normativa. Tutti gli altri family office, i single family office invece, sono interessati a queste tematiche perché il trend crescente è quello di ingaggiare le nuove generazioni, da una parte che sono molto attente a queste tematiche e dall'altra parte di guardare ad investimenti che hanno un angolo diverso ma che possono comunque avere una buona remuneratività. Questo si può fare disegnando delle politiche di sostenibilità coerenti con la normativa, è proprio su questo che noi stiamo supportando alcuni family office e nello screening degli investimenti andando poi a guardare, a fare due diligence non solo sugli aspetti legali e fiscali e sulla strutturazione degli investimenti ma anche se certe metriche di sostenibilità sono rispettate. Ci sono dei prodotti e dei fondi molto interessanti, penso ad esempio a dei fondi internazionali che investono in filiere particolari. Adesso stiamo assistendo a un family office che sta investendo in un fondo dedicato all'agricoltura e alle filiere, a tutta la filiera di un settore agricolo, in modo sostenibile, con dei ritorni che sono esattamente paragonabili a quelli di un private fund tradizionale, di un private equity, quindi con dei ritorni interessanti ma con una prospettiva molto particolare e là è un trend che sicuramente è in crescita. Grazie a tutti!